Buonasera, come da titolo vi ho regalato un mostro di metodo e andremo anche a vedere il perché. Il metodo appunto la distanza 1 di Rosario Gallo e ripeto di Rosario Gallo prima che esce qualcuno e dice che è un suo metodo, io dico che è di Rosario Gallo, poi vedremo. Ok, perché sono delle verifiche che ho fatto io e ho trovato questo metodo che credo veramente farà felice tante persone, specialmente le persone che amano l'ambetto. Qualcuno dirà, ma Rosario fino adesso hai detto ambetto scherzetto, ambetto eccetera, come mai adesso dici anche ambetto? Lo dico perché tante persone si fanno grandi con l'ambetto ed ho voluto farvi vedere che anche Rosario Gallo se vuole è capace di creare dei metodi per ambo e ambetto che danno vincite a go go, cioè non dico che non sbagliano mai ma sbagliano raramente e vi dimostrerò anche come questo metodo sta andando alla grande. Anche stasera ha dato addirittura, c'erano due condizioni, tutte e due sono andate a segno con l'ambetto e quindi vi ripeto anche Rosario Gallo è capace di centrare l'ambetto, per gli amanti dell'ambetto questo metodo è fenomenale, non centra logicamente solo l'ambetto ma anche ambi secchi, ma poi andremo a vedere. Adesso scrivetevi questo come si calcola la previsione, ok? Andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere Qua ci sono le eccezioni perché a volte può succedere che ci sono due numeretti, per esempio troviamo un ambo 3 e 4 consecutivo su una ruota, cosa facciamo? Logicamente non possiamo moltiplicare unità e decina, quindi dobbiamo per forza moltiplicare soltanto per se stesso il numero quindi facciamo, per esempio, se esce il 3, facciamo 3 per 3 e facciamo 9 e 90 e poi quando esce il numero, per esempio sul 4, facciamo 4 per 4 è 16 e il 61, quindi questo è il secondo ambo e poi c'è anche un'altra eccezione, a volte esce il zerato, quindi se abbiamo esempio 50 e 51, faccio un esempio 5 per 0 fa 0, quindi non potremmo trovare il numero da calcolare, quindi cosa facciamo? Facciamo 5 per 5 e quindi calcoliamo il numero 25 con il 52, ok? Spero sia chiaro, se non è chiaro potete contattarmi sempre sul mio Whatsapp Allora, ultima cosa, la previsione ricavata va messa in gioco per un bembetto sulla ruota dove è uscita la condizione e sulla sua diametrale, credo che ormai tutti sanno qual è la diametrale se qualcuno lo sa basta scrivere su Google per esempio ruote diametrale, vi esce tutta la lista delle ruote, la ruota diametrale di Bari, la ruota diametrale di Caglia, eccetera eccetera ok? E così si va messa in campo questa previsione ok? Bene, detto questo andiamo a vedere un po' perché ritengo che sia un mostro di metodo andiamo a vedere qualche condizione che si è rappresentata e cosa è successo stasera estrazione del 23.5.2023 se andate a controllare l'estrazione abbiamo il 41.42 ok? questo è un ambo consecutivo di distanza 1 se sapete fare i conteggi sapete come si fa ve l'ho fatto già vedere nell'esempio del mezzo 4 per 1 è 4, 4 e 40 40 e poi 4 per 2 è 8 8 e 80 ok? sul quale ruote? Torino la diametrale di Torino è 1, 2, 3, 4 e 5 Genova quindi Genova-Torino Torino Nazionale-Tutte anche se non lo scrivo lo sapete benissimo che Nazionale-Tutte va sempre messo ok? andiamo a vedere nei colpi a seguire cosa è successo e cosa è successo specialmente stasera primo colpo secondo colpo terzo colpo quarto colpo allora qui non ho aggiornato l'estrazione un attimo solo aggiorniamo l'estrazione di questo software questo è il software di Torino-Tutte per la visualizzazione dei numeri spia sto aggiornando un attimo l'estrazione per vedere stasera cosa è successo ok? ok aggiornato andiamo a vedere se adesso mi fa vedere l'estrazione allora dobbiamo chiudere qui apriamo di nuovo il software allora eccolo qua cosa è uscito a Torino ragazzi? 8,81 ambetto a Torino ok? 8,81 ma andiamo a vedere questa altra condizione perché c'era anche un'altra condizione che poi ha fatto ancora un altro ambetto allora vediamo un po' non mi ricordo qual era logicamente dobbiamo vedere sempre i numeri consecutivi allora era questa qui aveva detto 41,42 ok a Torino vediamo se a Torino c'era qualche altra cosa ah c'era il 20 e il 19 ok? questa è quella dell'estrazione scorsa come vi ho detto quanto è lo zerato? che facciamo? facciamo 2 per 2 4,4 4,40 qua 1 per 9 fa 9 per 1,9 9,90 ok? su Torino e stasera secondo colpo 8,90 un altro ambetto sempre a Torino ok ragazzi? quindi come vi ho detto vi ho regalato un metodo eccezionale adesso per esempio abbiamo i due numeretti consecutivi se avete capito come si fa basta fare sempre su Torino 8 per 8 64 quindi fa 64 e 46 e poi 7 per 7 49 49 e 44 ok? questi sono i due ambi su Torino Torino e poi 1,2,3,4,5 Genova la soldiometrale nazionale e tutte logicamente unite sempre i due ambi per ambo e sorti superiore sulle ruote Torino Genova e nazionale e poi dal terno in poi su tutte ragazzi cosa dirvi di più? se volete usate questo metodo se vincerete inviate l'unica cosa che vi chiedo è di inviare gli scontrini vincenti non cerco nessuna percentuale tranquilli qualcuno ha messo in giro questa voce ma se mi inviate gli scontrini vincenti non cerco nessuna percentuale anzi sono felice per voi se riuscirete a raccimolare diciamo qualche soldino in più nelle vostre tasche io con questo ho finito ah dimenticavo stasera Icaro ha centrato subito lambata c'è anche gli scontrini che mi sono arrivati non mi metto a farvi vedere anzi forse è meglio ma che che me frega stavo dicendo forse è meglio farli vedere perché poi qualcuno spalla ma lasciamoli spallare come dice qualche mio cliente tanto come si dice il non ricordo il detto come dice però che si cuoce nel proprio brodo lascialo cuocere nel proprio brodo ok adesso non mi viene in mente il detto però così mi hanno detto parecchie persone di lasciar perdere le persone che parlano spallano e continuano a fare ciò solo perché vogliono essere i migliori ma in realtà sono solo loro che si chi si dice chi si vanta se stesso o un colesse o un puntino puntini ok quindi detto ciò io ho finito ragazzi buonasera a te tutte e buone vince sempre con Rosario Gale e con previsionevincenti punto it